L'attore. La voce arriva nel cuore vicace, in augusti spazi. L'attore in scena. Arlecchina o Pulcinella, popolano o gransignore, che differenza può fare per chi ascolta la voce dentro al cuore? Quella è muoversi tra le quinte disegnate imitando una vita che diviene ancor più reale mentre viene rappresentata. Il palco di legna Muffiti, dal calcare di altre marionette, l'attore è in scena e nulla dopo sarà più vero della metaforica maschera.